Salve a tutti bella raga, ragazzi, ragazze e fan, benvenuti in questo nuovo video. Un breve video dalla quale il 29 ottobre è venuto Favij, tutto ok, è venuto al centro commerciale Porto degli Olivi alle ore 16 e naturalmente sono andata e non potevo mancare, con tantissima musica e fotografi dalla quale mi facevano la foto a me, ho incontrato pure i fan, cioè, giustamente, che seguono il mio canale. Comunque, vi volevo dire una cosa, lasciate like, commentate, condividete e iscrivetevi al mio canale che la prossima tappa, il 12 sabato, verrà Anthony, quello che dice ciao Puffe, e naturalmente andrò e farò un video e la foto con lui. Comunque, spero che vi piacerebbe questo video e al prossimo video, ciao a tutti i fans! Amore, dè mi fate che cosa c'hai? Dè mi fate che cosa c'hai? Dè mi fate che cosa c'hai? Cucci! ce! ce! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.